Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi oramai le ore sono scadute Ne mancano davvero una manciata prima dell'evento di questa sera alle 8 di questa sera Vi ricordo noi saremo in live dalle ore 19 ci sarà finalmente il mastodontico evento della season 9 Mostro contro robot! Cattus vs Dogus! E tu da che parte stai? E' questa la domanda ragazzi che il team di Epic Games si sta ponendo e vi sta ponendo Anche con le emot che ci hanno dato proprio ieri nello shop La mappa cambierà? La mappa rimarrà questa? Ci sarà un blackout? Si andrà davvero in un'altra dimensione? Non lo sappiamo ragazzi ma non vedo l'ora insieme a voi di vedere questo mastodontico evento Nel video di oggi ragazzi però parleremo delle motte Floss Sì perché la Floss ragazzi tornerà in una veste tutta nuova Vi farò vedere un gameplay e molto probabilmente la troveremo da fra pochissimi giorni Parleremo anche però di alcune curiosità legate alla season numero 10 Vedremo la data di inizio, la data di fine soprattutto e qualche altra piccolezza Che comincia a trapelare ovviamente nel mondo del leaking di Fortnite E ovviamente in chiusura un bel po' di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xyuderone quando scioppazzate di prepotenza Mi raccomando ragazzi non dimenticate dove cavolo è finita Di iscrivervi al canale e soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live Ma prima Ve la devo fare la domandina dai Lo sai che ve la faccio sempre Mi avete risposto ieri in tantissimi siete meravigliosi Perché io leggo tutti i commenti vi metto i cuoricini ragazzi Li leggo e poi cancello quelli degli haters Però va bene la domanda di oggi ragazzi Ma te cosa ne pensi della skin del leader mecha che è uscita ieri mattina nello shop Ragazzi a me piace un botto È enorme È veramente grandissima Però ci sta Ci sta e soprattutto è una di quelle skin che secondo me vanno prese Per il ricordo nel senso Perché magari fra quattro season Ci capiterà di giocare magari con delle skin a random Uscirà questa e allora ci verrà in mente ciò che sta per succedere Fra pochissime ore Quindi a me piace Anche se è grande Merita davvero tanto E spero che anche a voi Piaccia quanto a me Ma quindi Ciao ciao le bande E bando alle ciance Andiamo subito subito ragazzi A vedere il signor Donato Mostarda Il signor Donni Mosti ragazzi mi fa la modifica Al suo status Alla sua location Era rimasto con preparing defense qualcosa Non mi ricordo Da poche ore È The energy source Found Vuol dire La fonte di energia Trovata Ed è una cosa davvero molto interessante Perché potrebbe Ricollegarsi Al discorso Blackout Pinnacoli Vi spiego perché C'è da dire ragazzi che Ipoteticamente Per Alimentare Un robot grande Come il Mecha Che c'è Nell'impianto a pressione Serve veramente Un quantitativo di energia Non indifferente E quella che a noi viene in mente È ovviamente Conducibile Ai grandissimi cavi Che vengono presi Dall'evento Della season 9 8 Ragazzi Quello che L'evento di loot lake Infatti Non ho qua un'immagine Perché non mi sono ricordato Di inserirla Ma adesso che ci parlo Mi viene in mente Quando abbiamo fatto la patch Insieme Abbiamo visto i leak Effettivamente ragazzi C'è un Un render In 3D Nei file di gioco Che mostra Come La fonte di energia Da dove partono i cavi Verrà modificata Probabilmente A questo punto Nell'evento Quindi potremmo aspettarci Ragazzi Qualcosa relativo Ad un utilizzo Diverso della corrente Rispetto All'alimentazione Di pinnacoli E quindi Magari Il blackout Sarebbe davvero Confermato Ma andiamo avanti Ragazzi Con il prossimo Argomento Ovviamente Un bellissimo Background Del mostro Versus Il robot Ma quello che dovremmo Aspettarci nello shop Ed effettivamente Il pezzo mancante Del robot È il suo piccone Sembra ragazzi Essere proprio Questo Si chiamerà Combo cleaver In inglese Non sappiamo ovviamente Ancora il nome in italiano E sarà Acquistabile Quindi molto probabilmente Nel negozio Magari già da oggi Sapete questo video È registrato prima Dell'uscita del negozio È bellissimo Perché gli starebbe Davvero davvero bene Come vediamo Ha una rarità Rara Ed è un doppio piccone Oramai Quelli di epic games Ci stanno prendendo gusto A portarci E a offrirci I doppi picconi Che a me personalmente Piacciono davvero tanto Sia da quello Che ci hanno regalato Nella 14 giorni d'estate Che in quelli Che abbiamo potuto shoppare Che in quelli Che abbiamo potuto Anche sbloccare Ma ovviamente Riconducendoci All'inizio del video Eccola qua ragazzi Trovata da poche ore Nei file di gioco Decriptata Da un leakers No Sweet Che non sarebbe Altro che La floss Ve la voglio far vedere Ragazzi Guardate un po' Che roba Il background musicale È molto molto simile Come vedete Rifacciamo Una Mano Sola Però È una floss Per tutti quelli Che non hanno potuto Ottenerla Dal pass battaglia Della season Numero 2 Beh ragazzi C'è un'occasione Per avere La floss E quindi Flossarvela Di prepotenza Con i vostri amici E contro i vostri Avversari Ma andiamo avanti Ragazzi E parliamo Un attimino Ve lo ricordate Il bundle DPS4 Quello che era stato Lickato Per sbaglio Da Ali G Chi non conosce Ali G È uno youtuber Con più di 15 milioni Di iscritti Praticamente È stato il primo Al mondo Ad avere In anteprima Il bundle Neo Versa Quello che sta per uscire Il 24 luglio Per tutti Praticamente Perché ci sono I tre bundle Quello con la playstation Quello con il controller Quello con le cuffie Lui quando aveva Riscattato Il suo bundle E quindi parliamo Di 8 giorni 10 prima Dell'uscita ufficiale Aveva Trovato Quest'icona Che in realtà Ci ha fatto capire Poi quando l'aveva riscattato Gli aveva dato La skin giusta Ma questa è un'icona Sbagliata ovviamente Che però ci fa capire Che esisterà Un nuovo bundle Ve ne avevo già parlato Ma oggi Vi faccio vedere Questo ragazzi Ecco qua La skin In alta definizione Come sarà Quando uscirà Ovviamente Questo nuovo bundle Credo che si parli Ampiamente A fine della season 10 O a metà Comunque Non di certo Nei prossimi mesi Posso azzardare a dire E con tanto di backpack Ragazzi Ve lo faccio vedere Davvero tanta tanta roba Non è nient'altro Che un outfit Diverso Della nostra Operazione segreta Ma andiamo avanti Con l'ultimo argomento Ragazzi di oggi Il compleanno Di fortnite Sì perché C'è una curiosità Anche nel compleanno Come sapete Inizieranno Settimana prossima Direttamente Dopo l'evento Le sfide Che dureranno Probabilmente Fino a fine season Del compleanno Di fortnite Ci regaleranno Una skin Per le armi E per i veicoli Una base musicale Uno spray E un emoji Completando tutte e quattro Le sfide Otterremo invece Il piccone Con il pezzo di torta Ma quello che voglio Farvi vedere oggi E che sembra Essere Stato trovato Nei file di gioco Anche questo Il backpack Con il numero 2 Che sta a significare Ovviamente Il secondo compleanno Per quelli Che parteciperanno Alle sfide Non saprei dirvi Se sia un'immagine vera O se sia Un concept Perché è veramente Molto difficile Capirlo Io mi auguro Che ci sia In quanto Avendo già quello Del primo anno Sarebbe molto bello Da tenere In collezione E quindi ragazzi Speriamo In qualcosa di positivo Per tutti Io vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Iscrivetevi in tantissimi Al canale Noi Ci vediamo alle 8 In live Ciao Ciao